Buongiorno e bentornati nella Tana della Volpe. Oggi tenuta estiva perché fa caldo, credo Torino segni 34 gradi più o meno, primi giorni di luglio, primi giorni di luglio, torniamo a parlare di libri perché mercoledì 30 abbiamo fatto l'ultimo book club, l'ultimo book club appunto in ordine cronologico e abbiamo letto Banana Yoshimoto, Il Dolce Domani. Questa è l'edizione del Corriere della Sera perché purtroppo non ho l'altra, che è quella della Feltrinelli con la cover azzurra, ma tanto la ciccia è la stessa. Allora perché abbiamo scelto questo romanzo? Vari motivi, uno il più pratico direi perché era iper sottile, siamo tutti molto stanchi, siamo alla fine dell'anno pre-vacanze, quindi per molti c'era l'esigenza di non buttarsi troppo su qualcosa di faticoso e quindi siamo andati sul leggero. Due perché in più di un anno e mezzo di book club Banana Yoshimoto non era mai stata interpellata e quindi era doveroso forse anche introdurre uno dei suoi testi. Questo qua è il suo ultimo, pubblicato successivamente, pubblicato in Italia mi sembra l'anno scorso o massimo 19, ma secondo me 20 e la nascita di questo testo è legata alla triplice tragedia del Tohoku e quindi ne avevamo parlato nella diretta di marzo con Veronica De Pieri che se trovo vi linko da qualche parte. Poiché si tratta di Banana Yoshimoto, come io ho detto da qualche parte perché in un altro video avevo parlato di lei, l'esito di questo book club è stato interessante perché ha diviso la platea. Ci sono state delle persone che l'hanno trovato molto interessante e un'altra parte di lettori e lettrici che invece non l'hanno apprezzato. Adesso cerchiamo di capire un pochino rapidamente di che cosa parla e vi do le mie sensazioni dove mi colloco io in questo grande spettro tra amore e odio. Allora, dicevamo che la trama trae spunto dalla triplice catastrofe del Tohoku ma non ne parla in maniera assoluta, in realtà inizia con una scena abbastanza trucia, abbastanza cruenta della protagonista che si chiama Sayo, Sayoko, che si risveglia in macchina con un palo incastrato nello stomaco perché ha avuto un incidente stradale con il suo compagno che era alla guida. Questo incidente stradale causa la morte del compagno, non è spoiler perché credo sia alla riga 2, e le cause invece causa alla protagonista una lunga fase di coma. E noi siamo quindi introdotti in questo mondo che lei ci racconta, che è un mondo sospeso tra la vita e la morte, dove lei incontra il suo cane, dove lei incontra il suo nonno, e si capisce molto bene, molto in fretta, che la sua anima è a metà cammino verso il mondo dei defunti, ma appunto dal nonno viene richiamata in questa vita. Da questo momento Sayo inizia una lunga guarigione fisica e mentale, spirituale, è una guarigione che passa attraverso tutte le fasi faticosissime di un lutto per la perdita del compagno, che poteva essere un marito, insomma un compagno di vita, la perdita di se stessa in qualche misura, la consapevolezza che una parte della propria anima è rimasta nella dimensione dei morti, e quindi nell'aldilà. E da questo ritorno nell'aldiquan, Sayo ci racconta che riesce a intercettare, vedere, parlare con i defunti. Tornano alcune delle tematiche classiche di Banana Yoshimoto, quindi il rapporto con la perdita, il rapporto con la morte, il rapporto col mondo degli spiriti. In questo cammino ci sono poi una serie di incontri, ci sono i genitori, ci sono i genitori del compagno, ci sono un barista e un altro ragazzo che entrano e mischiano le carte in tavola, e quindi insomma ci sono un po' di passaggi che aiutano Sayo a lentamente riavvicinarsi alla vita. Non c'è una fine, non c'è una conclusione, c'è una riflessione, lunga non è vero perché non è lungo questo libro, ma c'è una riflessione costante, come se il libro si focalizzasse proprio su quello, su cosa vuol dire riemergere da una situazione che ti stravolge la vita ai limiti appunto della morte. Il libro secondo me ha delle caratteristiche molto interessanti, tra cui il costante, che lo sapete oramai che a me affascina il costante riferimento al mondo dell'aldilà, il riferimento al mondo e alle credenze religiose di Okinawa, e in particolare il riferimento alle yuta, che sono le sciamane tipiche di quella zona, e quindi il contatto con una dimensione popolare, di religione popolare. E poi anche la rappresentazione di Sayo come protagonista, che è una rappresentazione che non a tutti è piaciuta, tra l'altro, ma di una donna che ha smesso di essere completamente donna, e che anche per i propri connotati fisici nuovi è fluida, tra vita-morte, tra generi, età e quant'altro. Quindi questi sono elementi secondo me molto interessanti, così come sono interessanti anche i riferimenti a Kyoto, quindi una sorta di slittamento dello spazio, per cui c'è sicuramente la capitale, ma c'è soprattutto Kyoto nei ricordi della protagonista, e quindi un assaggio anche qui su un Giappone più intimo, su zone di Kyoto da residenti e quant'altro. Ci sono poi delle riflessioni anche interessanti su che cosa voglia dire trovarsi a metà. Tra due mondi che cosa voglia dire all'indomani di un lutto e di una quasi morte? Prendere coscienza del fatto che non si tornerà più, bene o male, alla realtà di prima. E quindi sicuramente questi sono elementi che sono tipici di Yoshimoto, sono tipici della sua narrazione, e anche in questo testo secondo me sono reperibili. Sono forse anche gli elementi che hanno fatto sì che le persone che l'hanno letto nel book club, e non avendo mai letto niente di Yoshimoto, lo apprezzassero. Dall'altra parte ci sono dei però. La premessa a questi però è che io mi dichiaro e mi svelo ovviamente come fan di Yoshimoto, soprattutto però dei testi antichi, quindi Kitchen, Sono Profondo, N.P., Tsugumi, Amrita, ecco Amrita per esempio per me è il più bello dei suoi di quell'epoca, Sly, L'ultima amante di Hachiko e quant'altro, quindi quella generazione di scritti. Questo è un testo che per me, che ho avuto quella passione per Yoshimoto, dà la sensazione di essere molto troppo rapido, troppo abbozzato, no? Come se appunto, si diceva nel book club, come se si prendesse appunti più che costruire un vero e proprio romanzo. Anche la lunghezza ovviamente predisce il fatto che si tratta forse più di un racconto che non di un romanzo affatto finito e lascia un po', non l'amare in bocca perché è sbagliato, ma la sensazione di aver letto qualcosa che aveva del gran potenziale ma che non è stato correttamente lasciato sedimentare, a cui non è stato dato il tempo di evolvere e che ha forse sacrificato alla fretta la possibilità di diventare invece qualcosa di più profondo. Ripeto, non sono temi nuovi per Yoshimoto questi, quindi tutto sommato non è uno di quei romanzi stravolgenti. Ha, ripeto, delle caratteristiche interessanti, però dall'altra parte appunto restituisce una sensazione a me, questo è assolutamente personale, di... non so tradurle in parole, però come quello che dicevo ieri era il ragazzo è in gamba ma non si impegna, quindi come se ci fosse un po' veramente del potenziale anche da sfruttare rispetto alle tradizioni popolari, rispetto a Okinawa, rispetto a una visione del corpo particolare che invece non viene sviluppata oltre. Questo sarà un video breve perché in realtà il romanzo è breve e sono curiosa di sapere se l'avete letto, che cosa ne pensate, se l'avete letto dopo aver letto altri libri di Yoshimoto o se invece è anche per voi il primo assaggio di questa scrittrice, nel caso che cosa vi interesserebbe leggere. Io per ora tengo il video breve, ne approfitto così faccio un passaggio veloce su questo tipo di romanzo. Vi ricordo che ci saranno tantissimi libri, ci saranno adesso delle novità a venire. Io per ora vi dico come sempre il like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, fate tutto quello che dovete fare, aspettate la prossima settimana con nuovi romanzi giapponesi e non. Per ora vi bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS